E' aperto il mio nuovo shop, potete comprare magliette, felpe e maglie e maniche lunghe, vi lascio il link in descrizione per acquistarlo Per tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo qui con una reaction abbastanza divertente Siamo su una reaction di Funny Moments su GTA V Era da un botto che lo volevo fare e ho trovato una compilation stra divertente Iniziamo subito Ok, qui c'è un tipo che vuole sparare alla polizia No Ma sei suicidato Addio, mondo crudele Ok, perché sta picchiando tutti? No vabbè un genio No, no vabbè L'ho fatto suicidare Eroe nazionale Eroe Ok, questa bellissima auto E' la madonna E adesso cosa farà? Bene Perché si picchia una vicenda? Oh mio Dio, sta succedendo nel bordello Ok, confiniamolo Ma è che? Ok E' tutto normale E' tutto normale raga Ma che? Ma cosa fa il poliziotto? Perché c'è una ruspa Ma vabbè Sì Vai Perché si buttano a terra? Ma sono proprio imbecilli Ma che è? Che sta tirando le uova? Le ho detto Sono fighissime ste cose Giuro che se avevo io GTA 5 Avrei fatto pure le stesse cose E' talmente sfigato Ma perché un pugile? E' vabbè Alla John Cena proprio Ma che? Ma perché? Sì, non capisco questa cosa Perché si picchia una vicenda? Ok Perché? Ma sì Cioè in mezzo al traffico Chi se ne frega? Bravo Oh mio Oh mio Oddio Finita male Ok Cosa sta facendo? Come cavolo Si è buttato Ok Ci riprova ancora una volta Con altre persone E' fighissimo Ok Ok Eh Volevi No vabbè La cosa più figa in assoluto Adoro GTA 5 Solo per questo Vai Ma che? Ok E' tutto normale Bene Giusto per finire il lavoro No Non è proprio così Altro che no smoking Altre ruspe No 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 vabbè Vai Picchiamoli Picchi uno Seguono tutti gli altri Ma che cavolo di calcio Oh vabbè Vai Calciamo tutti Chi è il prossimo? Vai Sembra il super pugno GTA San Andreas Sto calcio Che cavolo Ebbè Potevi non saltare uno Vediamo adesso E vabbè Ok E vabbè Come uccidere la polizia In un minuto Anzi in 5 secondi Ancora ruspe Contro la polizia Schiacciata proprio Credo Andrà a finire Bene Altri due sono Nella pala Come andrà a finire? Vai Uno è andato E l'altro? Vai Oh mio oddio Qua finisce epico Ma è la fine più stupida Che abbia mai visto Ma non è vero Ok Ma che Vai Dai Eh Che sta succedendo? Ma che Perché ti picchia una vicenda? Ma Io non lo so E vabbè Eh Non è morta ancora Due contro l'uno Chi vincerà? No 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 Vai Colpo mancato Non ci vuole niente Via Che bella questa fine Vai Calciamo ancora persone Ormai è diventato un hobby Ma è che Ma che No vabbè No vabbè Che figata Oddio Onore raga Onore Eh Vabbè Atterrato direttamente Sulla testa del tipo Non credo Ce la farete Secondo me Muoriranno Come non detto Questo andrà a finire in testa sicuro Ma lo sapevo Ok Tu non puoi salire È finita male per tutti e due Mi sa Dritto in piscina No dritto No vabbè È stato un proiettile È stato un fottuto proiettile Ok raga Io direi di chiudere qua Questa reaction Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un like Iscrivetevi al canale Mi ti piace Viaggia la facebook Tra i tivi In descrizione Con altri social E niente Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti raga Noi ci vediamo